Non vi rubo altro tempo, chiamo subito su palco Antonio Pepe, partner di SenseMakers che ci introdurrà le diverse sfaccettature e connotazioni dell'influencer marketing. Buona giornata. Grazie Alberto e grazie Upa per la possibilità di incontrare i nostri amici, i nostri clienti, i nostri partner qui oggi. Una prima battuta, perdonatemi, abbiamo fatto l'esempio prima di Cabilame, Alberto ha citato il livello degli investimenti che evidentemente molto cresciuto, ma Cabilame poi si è lamentato che non guadagna abbastanza in maniera assolutamente molto simpatica all'ultimo festival di Venezia. Allora, io vi intratterrò per un quarto d'ora e vi racconterò un po' di analytics, di internet e dei social. Parleremo di audience, parleremo di tempo speso, parleremo di interazione e daremo anche qualche focus, qualche slancio di riflessione rispetto all'editoria tradizionale. Vado alla prima slide e vi inizio a raccontare allora come abbiamo impostato questa ricerca, prendendo dati dalle diverse fonti di informazioni. Parliamo appunto di analytics, abbiamo fatto una indagine, un'analisi considerando gli ultimi due anni, dunque prendendo come riferimento il 2019, per cui un periodo pre-pandemia. Perché quello che è accaduto in questi due anni ovviamente è stato un grande sviluppo di internet in generale nel 2020 legato al fatto che eravamo tutti in qualche modo segregati e distanziati socialmente e per cui i numeri complessivi di internet sono cresciuti, sono cresciuti considerati dell'8% per quello che riguarda gli utenti e per l'8% anche per quello che riguarda il tempo speso. Però se guardiamo questa slide, quello che vediamo è che sostanzialmente il mondo social che ho rappresentato in basso a sinistra, delle principali piattaforme in termini di audience, è cresciuto come penetrazione sulla 18+, a livelli già del 97%, per cui prossimo al 100% sul 18-24% siamo al 100% di reach, di copertura. L'altro elemento ancora più interessante è il tema del tempo speso. che oggi ha raggiunto il 44% per i 18+, e il 61% per i 18-24%, crescendo in particolare il 18-24% di 12 punti percentuali rispetto a giugno 2019. Ora entriamo un po' più nel dettaglio, questi sono dati di Comscore, e vediamo le informazioni relative alle prime top 5 piattaforme per audience registrati a giugno 2021. E quello che vediamo è il primo elemento che non c'è, diciamo Twitter, che era invece all'interno delle nostre classifiche precedentemente, ed è stata l'unica piattaforma che forse in questo periodo, dopo il 2020, non è riuscita a mantenere il livello di ingaggio acquisito in quell'anno molto particolare. E tra tutti quanti i dati, ovviamente, qui parliamo del perimetro appunto 18+, l'elemento più importante e più evidente è la grande crescita di TikTok, Telegram che rimane sostanzialmente una piattaforma di messaggistica, anche se ci sono una serie di personaggi che stanno sempre più spungendo su Telegram, ed è per questo che è presente nelle nostre graduatorie. Abbiamo poi Instagram che ha anche relazione al rilascio delle nuove feature di tipo video, passando acquisito il suo importanza dal punto di vista del tempo speso, che è l'asse verticale. Facebook ha un po' perso termini di audience, si è consolidato ulteriormente YouTube, leader sia in termini di audience che di tempo speso, e di fatto YouTube, piattaforma video, nell'epoca in cui va di moda il 2x nell'ascolto audio-video, il tempo speso diventa ancora più importante. Se ora andiamo invece ad analizzare il comportamento della fascia 18-24, vediamo come tutti quanti i fenomeni che abbiamo elencato prima siano amplificati. In particolare il tempo speso è molto superiore, considerate che oggi nella fascia 18-24, più o meno su tutti quanti i social, noi spendiamo 18-24, due ore al giorno sui social, su tre ore e un quarto di tempo complessivo su internet, considerate che sulla 18 più si riduce a comunque un'ora e dieci sui social, su due ore e mezza di tempo complessivo, e queste sono appunto le piattaforme leader. Se andiamo a vedere chi è il primo degli esclusi, scopriamo un nuovo interessantissimo operatore player, che è Twitch, che ha già una sua caratteristica di consumo prettamente live, c'è anche Messi che ha appena lanciato il suo canale Twitch, dunque live che ci evoca inevitabilmente il mondo della televisione, e ci aspettiamo una grande evoluzione nei prossimi mesi di Twitch, che probabilmente rientrerà nella top 5. Allora, adesso cambiamo metodologia di analisi, usiamo i dati della piattaforma AtClarity di BI Science per fare una riflessione sulla spinta pubblicitaria che ha permesso, che ha aiutato in qualche modo le piattaforme a crescere. Qui velocemente vi illustro sulla parte sinistra, potete vedere l'andamento in particolare di TikTok legato alla sponsorizzazione per gli europei, e anche al tentativo, direi anche riuscito, di allargare l'audience non solo ai ragazzi, ma anche ai loro geritori. Sulla parte sinistra vediamo alcuni esempi di campagne che sono state fatte da Facebook ed Instagram, che invece hanno spinto più sulle nuove feature, rilascio i Facebook Live, le Stories e i Reels. Ora entriamo un po' più nel merito dell'analisi dei dati, per quello che riguarda in particolare l'analisi delle interazioni, che sono la caratteristica peculiare del mondo dei social, dell'interazione appunto con gli influencer. Cambiamo piattaforma, utilizziamo una piattaforma statunitense che si chiama Shareably, e riaggiungiamo, perdonatemi, Twitter all'analisi, perché di Twitter, di Facebook, di Instagram e di YouTube abbiamo dati. In questo caso stiamo dialogando anche con TikTok, per avere anche con loro questa tipologia di informazioni, abbiamo dei primi dati, ma non sono consolidati. Come potete vedere in questa analisi, sempre fatta paragonando 2019, Q2 e Q2 2021, il ruolo degli influencer all'interno delle piattaforme social è assolutamente preponderante. E questo convegno ovviamente è anche una conseguenza. Ma la cosa molto interessante è che il publishing e il media entertainment in questo periodo, dunque gli editori italiani, sono stati bravi a interpretare i social, a capire anche come integrare gli influencer nel storytelling che propongono ai loro lettori, ascoltatori, fan, followers e ovviamente anche ai brand. Se andiamo ad analizzare quali sono oggi gli influencer e come si dividono per categoria mercenologica, considerate che adesso qui vedete 2.200 influencer che noi mappiamo quotidianamente, monitoriamo quotidianamente, a oggi già sono circa 2.500, sono divisi sostanzialmente molto importanti, sono le categorie, perdonatemi, tradizionali di personaggi, di VIP, per cui abbiamo gli atleti, in Italia ovviamente in particolare per lo sport il calcio, la TV molto importante, la musica, e poi a mano a mano troviamo delle categorie, ad esempio il lifestyle e ancor più il gaming, in cui la quota di influencer che sono nativi digitali e nascono su internet diventa sempre più importante, e nel caso ovviamente del gaming dei video creators è tendenzialmente prevalente. Andiamo a vedere come questi diversi influencer lavorano, interagiscono, utilizzano le varie piattaforme. Qui abbiamo riportato, facendo sempre riferimento al Q2 2021, quelli che erano i ranking calcolati per interazioni nelle diverse piattaforme. Considerate che, come è abbastanza evidente, Facebook si sta sempre più caratterizzando per essere il social delle informazioni, delle notizie, utilizzato molto dai politici e dai giornalisti. Se passiamo ad Instagram, noi tutti i mesi più o meno nelle prime posizioni abbiamo i coniugi Ferragni, i Fedez, poi abbiamo anche delle new entry o delle conferme di operatori, anche gli autocall che avremo poi ospiti qui nel seguito della giornata. Matteo Salvini di nuovo, Matteo Salvini presente anche su Twitter, insieme ad altri giornalisti, insieme ad altri politici e giornalisti, e quello che in particolare è il risultato che hanno avuto i Mineskin, legato anche al successo all'Eurovision, ma che stanno mantenendo loro un presidio importante della piattaforma, notiamo anche la presenza di Fedez, che sappiamo essere attento a temi anche un po' scottanti. Ultima in ordine di analisi è YouTube, in cui ovviamente il tema dei creator diventa preponderante, tema gaming, tema intrattenimento, e questa è la piattaforma effettivamente che dà più spazio in questo momento a questa tipologia di interazione. Vi faccio una riflessione di nuovo su Kabilami, che non vedete in questi gradatori, per dirvi una cosa. Noi siamo soliti a pubblicare classifiche, agitare un po' l'interesse, incuriosire, però per lavorare con gli influencer e con i social bisogna analizzare i dati in profondità, perché Kabilami ad esempio non compare nelle nostre classifiche, perché poi la copertura delle metriche e delle tipologie di interazione è un po' a macchia di lopardo, e Kabilami sarebbe stato possibile individuarlo, e l'avevamo individuato analizzando ad esempio la crescita dei follower, che era stata molto molto rapida, però il messaggio è non vi limitate alle nostre classifiche, guardate all'interno dei dati, perché ci sono molte più cose poi da andare a scoprire. Ora entriamo più nel merito del convegno e della relazione che hanno gli influencer con i brand. Nel nostro panel di 2200 influencer circa il 30% pubblica post brandizzati, che rappresentano più o meno l'8% della loro produzione editoriale, con molto molto interessante un dato di interazione media sui post brandizzati, che è equiparabile in questo caso superiore alle interazioni che hanno sui post neutri. Questo direi che è assolutamente un ottimo messaggio per i brand e uno stimolo all'investimento. Abbiamo fatto un esercizio ulteriore, abbiamo diviso gli influencer in categorie a livello di numero di ingaggio. Non entro nel dettaglio, perché la cosa che mi interessa, mi preme sottolineare che ovviamente ci sono le celebrities, ci sono poi i macro, i risers e i micro influencer. Tutti quanti abbiamo esperienze, conoscenze dirette con le diverse categorie, ma la cosa importante è quest'altra slide, cioè la stessa dati che abbiamo visto prima, analizzati però per tipologia di influencer. Per cui quello che vediamo sostanzialmente è che ovviamente le celebrities hanno delle livelli di interazione media generati dal loro follower, dal loro fanbase, molto alti. Ma la bravura dei micro, dei risers, è proprio quella di avere invece delle performance, rispetto ai post neutri, molto molto importanti. Per cui sono molto bravi a coniugare il messaggio pubblicitario al messaggio che poi vogliono dar loro a livello editoriale. Per cui questo è uno stimolo a lavorare con i piccoli influencer. Sempre nello stesso periodo abbiamo visto ma quali sono stati i brand che hanno lavorato di più con gli influencer, considerando il livello di interazioni. Poi dopo nella tavola rotonda esamineremo meglio un po' più nel dettaglio le metriche. In questo caso, abbiamo fatto uno spaccato su un trimestre, vedete una serie di brand, molti della moda e del fashion, e il numero sulla colonna di destra degli influencer che sono stati attivati, utilizzati nelle loro campagne. E ci sono le situazioni più disparate. C'è chi utilizza solo due influencer, chi ne utilizza 30, 29, e chi è una via di mezzo, ad esempio Bulgari, che ha Chiara Ferragni come abbassador, ma poi lavora con tanti altri influencer molto importanti. Per cui grandi diversità. Ora, faccio un'altra analisi, un'altra riflessione, la relazione degli influencer con la televisione, un altro spunto di dibattito per le tavole rotonde successive. Ovviamente se avessimo considerato programmi come Uomini e Donne, Amici, X Factor, abbiamo trovato tutta una serie di nominativi, di nomi, di personaggi che nascono, generati da questa fucina, fabbrica quasi, di personaggi, che hanno poi sui social una vita più o meno lunga secondo le loro caratteristiche e di quanto ci si dedicano. Abbiamo preso invece un caso diverso, abbiamo preso il caso di una serie di personaggi già noti, questi comici, che hanno partecipato a questa serie, miniserie, tra l'altro molto concentrata nel tempo, LOL, e quello che vediamo è che anche laddove c'è un personaggio già affermato e conosciuto, la televisione dà un boost di notorietà incredibile, che si può facilmente quantificare in termini di, tra virgolette, perdonami il termine, capitalizzazione in termini di followers, e anche di ingaggio medio che riescono poi ad ottenere. Ultimissima riflessione, poi le ho le conclusioni finali, qualcosa che è accaduto durante gli europei, Ronaldo, che in conferenza stampa, sposta, leva le bottigliette di Coca-Cola. Ora, quello che noi vogliamo dire è che nei numeri, non dico che potevamo prevedere questa situazione, ma c'erano delle cose da tenere in considerazione. In questo caso abbiamo paragonato a maggio, dunque prima degli europei, le affinità, e ne parlava prima il presidente, tra Kane, Neuer e Ronaldo, con la Coca-Cola. E quello che vediamo, i numeri sono un po' piccoli, vi racconto, è che Ronaldo era, la fanbase di Ronaldo era quella più lontana, sostanzialmente, dai valori, dagli interessi, della fanbase di Coca-Cola. Il che poteva essere un'ottima opportunità di allargamento, per Coca-Cola, ma anche un rischio. Nel senso che si stava andando ad interagire, con un personaggio che era distante, per cui si sarebbe potuto forse gestire meglio. Ovviamente, queste sono altre considerazioni. Vi lascio una serie di riflessioni, che sono un po' un recap di quello che vi ho raccontato, per cui, il mondo degli influencer, marketing che cresce, benissimo, potenzialità, interesse e curiosità, incredibili, sposo assolutamente quello che ha detto il presidente, ripeto Alberto, misurazioni, metri che trasparenza, ne abbiamo veramente bisogno che ci sia, che ci sia un'accelerazione. Gli influencer stanno lavorando bene, stanno crescendo, stanno crescendo anche gli editori, e loro lavorano anche, riteniamo, un ruolo molto importante, sia dal punto di vista dello storytelling, sia dal punto di vista proprio del monitoraggio, del consolidamento dei risultati e della gestione, perché hanno esperienza di relazione, ovviamente, con i brand, e anche con gli istituti di ricerca, come siamo noi. E l'ultima riflessione, lavoriamo e diamo spazio, investiamo sui nuovi talenti, sui creator, su chi crea, su chi ha creatività, perché ci sono tantissimi gli spazi che si stanno creando, e ogni piattaforma ha delle sue specificità, per cui non esistono i social, esistono tante tante realtà diverse. Con questo vi ringrazio. Grazie. Grazie.